Grazie a tutti. Tutte le azioni vuol dire anche una telefonata, un'area di sera, un incontro, una serata in discoteca, qualsiasi cosa. Se il proprio faccio, mettere in atto, cioè non mi limito a parlare, mettere in atto, tutte le azioni volete dire fare una piccola taggine presso insegnante, fare un referendum con volante, fate quello che volete. Ma perché non la trasformi in raccomandazione in questo caso, se lo siano morati, perché in questo mondo voi andrete dalle dirigenti scolastiche e direte, quanti che non sarebbe importante fare quello. Se non la fa, non sarà la responsabilità, sarà la sua e non la nostra.